A 24 ore dalle primarie del centro-sinistra è la questione infiltrati a far esplodere la polemica a respingere l'accusa di essere gli untori delle primarie del sindaco di Lecce Paolo Perrone che anzi punta il dito dritto contro i tre candidati del centro-sinistra ai quali rivolge un'accusa ben precisa Tutti i candidati del centro-sinistra delle primarie, chi più chi meno hanno contattato, a titolo di amicizia, a titolo di favore personale hanno contattato tantissimi esponenti del centro-destra familiari di rappresentanti pubblici, di consiglieri regionali a cui è stato chiesto per favore di andare a votare comunque visto che si trattava di una competizione tutta all'interno del centro-sinistra quindi se c'è stata un'infiltrazione questa è stata alimentata proprio dagli stessi candidati Anzi, aggiunge Perrone, io ai miei l'appello di non andare a votare per loro l'ho già lanciato Più gente va a votare alle primarie, più il risalto di queste sarebbe grande e quindi i miei non devono andare a votare alle primarie Primo Secondo, francamente, ammesso che noi volessimo giocare sporco non sapremmo per chi votare perché io non ho identificato un candidato più debole degli altri Sulla questione è intervenuto anche il segretario regionale del PD Sergio Blasi che invece si aspetta un appello da parte dei tre candidati affinché la competizione sia scevra da inquinamenti esterni Come PD, dice ancora Blasi abbiamo scelto di sottoporre la candidatura di Loredana Capone alla legittimazione popolare per il bene del centro-sinistra unito ma questo, dice, non significa piegare la qualità delle proposte in campo ai tatticismi di un centrodestra povero di idee e di proposte che vuol minare il corretto svolgimento delle stesse parole confermate dal presidente della commissione primaria Nicola Grasso Rifugiamo ogni tentativo di delegittimare questo voto noi usciremo di qui domenica sera con il nome del candidato sindaco del centro-sinistra che sarà appoggiato da tutti i partiti della coalizione Intanto domenica si voterà dalle 8 alle 22 nelle sale dell'hotel Tiziano basterà recarsi alle urne muniti di documento di identità e non di testere elettorale potranno votare tutti i maggiorenni, italiani e stranieri e quelli che compiranno il diciottesimo anno di età entro maggio